la bocca parlando con questa si può essere volgari ma in un uomo è una delle parti più importanti così come il naso che serve per annusare gli occhi che servono per vedere le mani la mano destra la mano sinistra le orecchie che servono per ascoltare le gambe e i piedi senza i quali non si può camminare i gomiti anche non sono male la schiena importantissima così come le chiappe se no dove ci sederemmo tutti elementi importantissimi ma niente in un uomo è più importante del suo pe... del suo pensiero infatti pensa prima di pensare male quanto sei vulgare grazie